finito il maradona è finito cosa posso dire del maradona finito che il pipe de oro è il maradona di quando era un bambino che ancora non aveva raggiunto i traguardi che poi la vita gli ha concesso di avere però li sognava sognava di giocare nazionale sognava di vincere la coppa del mondo scarpa d'oro il pallone d'oro tutte cose che ha poi raggiunto il pipe de oro l'ho fatto su una base d'oro che ogni essere umano ha alla nascita nasciamo poveri l'ho fatto con i piedi nudi per sottolineare la povertà nel senso che veniamo nudi senza nulla ma nello stesso tempo anche molto ricchi ricchi di informazioni interne ricchi di istinto ricchi di cuore anche di mente se riusciamo a non farci mangiare da lei e l'ho fatto questo pipe de oro chiaramente con la maglia della nazionale a differenza del maradona moore che ha la maglia del napoli una grande squadra che gli ha permesso di dimostrare il suo talento a livello internazionale come non era successo ancora prima era un grande calciatore ma non aveva ancora raggiunto nulla e infatti nella maglietta si intravede in basso rilievo come un sole dove ha dentro la iconografia del golfo di napoli con il vesuvio il mare e le costruzioni che è il posto dove poi in un futuro nel suo futuro avrebbe trovato la gloria la gloria che è unica è unica io ho fatto ho cominciato a fare questi monumenti a maradona senza una motivazione diciamo intellettuale chiara però come spesso mi succede quando faccio delle sculture di un monumento dedicato a un grande personaggio mi sono anche informato e informandomi sul personaggio di maradona che io non conoscevo ultimamente devo dire che ha veramente meritato i tre monumenti che mi sto facendo per cui il rispetto che merita un personaggio come maradona che io stesso dal basso dei miei pregiudizi giudicavo quando i media hanno cominciato a dire alla cocaina eccetera l'hanno dipinto come un modello da seguire e questo è successo dopo che lui maradona ha stracciato in faccia a kissinger un contratto da 100 milioni di dollari che gli stavano dando il battaglio di firmarsi gli ha strappato in faccia perché ha detto no io gli chiedevano in cambio di rinunciare le sue amicizie di sinistra fidel cals fidel castro che gavara chavez eccetera e di prendere anche la cittadinanza americana quante persone oggi avrebbero avuto il coraggio di sputtare in faccia 100 milioni di dollari oggi che ci sono persone che fanno la fila per farsi comprare per farsi comprare per un piatto di litiglia per cui quello che ha fatto maradona è qualcosa che giustifica perché dopo tanti anni che lui ha smesso e quasi a un anno dall'anniversario dal primo anniversario della sua morte è più amato di quando era vivo queste cose succedono solo se hai delle qualità umane straordinarie e divo armando maradona adesso mentre io dico queste semplici parole passano in velocità quasi tutti i passaggi per arrivare a questa definitiva colorazione del bipede oro questa è la coppa del mondo che lui ha vinto che ha coronato la sua carriera per cui qui chiudo il video e poi vediamo il proseguo di tutta quanta la cosa all'inizio avevo pensato di vendere le coppie delle sculture che ho fatto ma ci ho ripensato no me le le tengo io le tengo questo mi tengo in maradona forse farò un piccolo ritratto solo della faccia di maradona se qualcuno vorrà comprare ma questi monumenti qui li tengo per me ma tengo aperta la possibilità di realizzare nel monumento della davida che è costituito da 3 col 6 uno grande centrale più due esterni più piccoli del 50 per cento dove uno dedicato allo sport la scultura di maradona simboleggerà tutti gli sport lo sport del calcio ma soprattutto il simbolo della grande persona che è stato lui che continuerà a scaldare i cuori ea dare l'esempio agli esseri umani che non possono essere definiti esseri umani specialmente in questo periodo di pandemia lui avrebbe detto sicuramente la sua in questo delirio mondiale dove ci manca un numero 10 umano però siamo fiduciosi che la vita sa e sa il fatto suo maradona quanto tempo è già passato maradona quanti dribri in mozza a fiato maradona quanti coli impertinenti maradona maradona ti segnavi come udini maradona era azzurro il tuo destino anche se mi spaccavano le gambe maradona la domenica allo stadio maradona cori in feste litigate maradona maradona il profumo dell'immesso mamma il profumo dell'immesso mamma verrà sbagli e rimeschino mamma mamma ma nel napoli divino maradona non si scorda il primo amore maradona 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.